Benvenuti in questo nuovo video di Rise of the Ronin! Nello scorso video vi avevo lasciato con questo dubbio Chi vivrà e diventerà il protagonista o la protagonista della nostra avventura su Rise of the Ronin Portando con sé, portando e prendendo questo messaggio segreto fondamentalmente? Siccome l'uomo, ragazzi, sappiamo che è un cavaliere Ci dimostreremo cavaliere anche noi E sceglieremo lei Come protagonista Vivi e prendi il messaggio segreto Davvero scegliere? Non potrei cambiare protagonista più in avanti Ok, scegliamo lei Scegliamo lei, scegliamo lei Ah Oh Il demone blu Chi è? Ecco il volto Il volto del demone blu Ahiaiaiai ragazzi Ahiaiai Quella era l'unica traccia rimanente Ecco intanto la forgiatrice Eh sì, eh sì Da grandi poteri derivano grandi responsabilità Diceva qualcuno In questo caso insomma E' un sacrificio vero e proprio Intanto qui c'è un'altra Un'ulteriore flashback Non dimenticare Siamo un tutt'uno Quindi lui Il nostro gemello Fa ancora parte di noi Questo è un brutto sogno Informazioni aggiunte Possiamo vederle le informazioni aggiunte? Enciclopedia forse Abilità speciali Quindi qui possiamo Eventualmente andare a potenziare Il nostro personaggio Qua c'è l'enciclopedia Con l'archivio Molte informazioni Sull'auroconista La lama gemella Su Perry Che abbiamo sconfitto prima Anche se non l'abbiamo spatolato Perché poi è arrivato il demone blu A farsi gli affari altrui A farsi gli affari degli altri Poi c'è la forgiatrice Gli eventi La guida Quindi il tutorial Con la modalità foto Ma per quanto riguarda Stavamo dicendo le missioni C'è la possibilità di scegliere La missione Sole calante Infiltrazione da nave nera Abbiamo fatto Quindi c'è il sole calante Come prossima missione A 255 metri di distanza Per quanto riguarda invece Le statistiche Qui possiamo andare a potenziare Anche se i punti abilità Non ne abbiamo in questo momento Quindi non possiamo farla questa roba Regati dalla forgiatrice Andiamo Facciamo così Per ricaricare tutto Nel caso in cui Non l'aveste già fatto prima Insomma Non ho Non avendo controllato Che è oh 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 Chi è qua No ma è rotto la guardia Eh questo non potevo schivarlo Manco questo Ok Ok Eeeh Me scusi caro Te ne vada Ok Eh no Ok I shuriken Si possono lanciare rapidamente Uno dopo l'altro Che fissa I shuriken Allora Dobbiamo raggiungere La forgiatrice Quindi c'è stato un attacco Al villaggio Regà Ma do Ricariciamoci la vita Un secondo Ma son due Guizzo di lama Con R1 Ripulisci la tua Arma dal sangue Ah E recupera la stamina Figa sta meccanica Eh qui è sbagliato Scusate No A uno l'abbiamo fatto No E dai E che quanti attacchi speciali hai Carissimo Mi scusi Non è che mi attacchi A uchuriken Eccola Che predict Il terzo C'è anche un terzo E ha finito le pozioni Ma c'è pure No C'è pure il lupo Regà No Aspetta 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 E allora E allora Un pochetto Danzetta Ok Addirittura L'Archer Ci abbiamo Che più Ti vuole Rispetto agli altri Perché L'abbiamo Spatolato In 4 4 8 Oh Alla La regola La regola La regola Regà Alla Ricarichiamoci la vita La regola Uno Due No In questo caso Uno Due Tre Manco Per niente Alla Ok 1 2 3 Ok Non mi ha dato modo di Non sono riuscito a schivare Non sono riuscito a schivare l'attacco Non ci sono riuscito C'è poco da fare Noi ci sono proprio riuscito E 1 Abbiamo ancora 7 7 Sure Questo mi sembra più forte degli altri Ok Mi sembra più forte Ti prende sto gioco Ma è bello complicato Allora 1 2 Basta Poi mi sai La regola Dei due 1 2 No Ti attacca pure Questo 1 2 Via 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 Ricarichiamo Metà vita è poca 1 2 Via 1 2 3 Via 4 addirittura Shuriken Shuriken Attacco speciale è andato via Ok Let's go Ski Non pensavo Non pensavo di farcelo Si Il tuo clan è spacciato Come è? Eh È troppo lontano No C'è ancora gente Alma No Mi stanno aspettando Ragazzi Palese No No Mi stanno aspettando Questo Non è Per il combattimento Ravvicinato Sto tizio Infatti Spatolato Lupo È semplice Da spatolare Differenza Differenza di Quest'altro Che è arrivata All'improvviso Anzi Sono due Sono due Sono due Questi Non lo so Questi Allora Questo Aspetta Aspetta L'uno è forte L'altro è un po' De meno Ma entrambi Possono creare problemi Entrambi Possono creare Dei problemi Ecco Appunto Ok Per favore Per favore Per favore Per favore Ok Stamina 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 E E Aia Aia Stamina Ale Ale Eh Non li parla tutti Però Questo balordo Oh Ne nasce addirittura No 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 Non me l'aspettavo Non me l'aspettavo Io comunque Sto a fare tutti Attacchi normali Perché sono veramente Complicati Sono complicati Veramente Per me Stta tipologia Dei giochi Non per niente Ma Ho rotto la guardia Let's go Ski Ah Un po' di vita Ok ce l'abbiamo Ricarichiamo Vai Oh Mi ha ricaricato Ora si 130 metri Ci dovremmo essere Ci dovremmo Essere Corriamo Però potevo ispezionare Da sta parte Aspetta Vediamo quanta libertà C'è d'azione Nel senso Qualche possibili Passando di mezza L'epra Sarà più difficile Individuare Potevo fare la stealth Qua Qualcosa a raccogliere C'è Sono Die Ah Dieci sure Beh Stealth si può fare Comunque Questo gioco Dipende Secondo me Dalle fasi In cui ti trovi Dipende Dalle fasi In cui ti trovi Ok Io dire proprio Di Issare Lo standard Vai Noi non esistiamo Qui Noi non esistiamo Ah Ah Ok Siete Uno già l'avevi fatto Era un one shot Un altro fatto Vabbè Ha spadolato tutti Ragazzi Oh In quanti sono Questi sono più deboli Perché sono In quantità Ok Credo Poga stamina Per niente No Ok No Calma Calma Ok Eh ma la stamina Poga stamina Ok Ricarichiamo la vita Raccogliamo Cose da qui Ispezionando E gustiamoci La scena di intermezzo E l'hanno ferita Mi sa Oh no Se sta piangendo Stank Ah Siete di vendetta Sì Ancora vivo Il demone blu Io Hai dimenticato Il codice No No Non mi ti chiedo Non mi dire Che dobbiamo sfidarla Per davvero Ora Non mi dire Che dobbiamo sfidarla Per davvero E mi sa Tanto di sì Lo sai Che non posso Lasciarti andare No Non ci credo Ragazzi Sfidare La propria Mentore Ah perché Così facendo Diventiamo Di disertori Oh Santa pazienza Non sfidare mai Il tuo Maestro La tua Maestra Vieni qua Eh appunto Che timing Comunque Che tristezza Come hai visto Tanto Oh Ok Uno Due Tre Quanto sarà Uno Due Tre Oh No Aspetta Uno Due Tre Ok Uno Due Via 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 No No Mi hai rotto La guardia Eh Eh sì Via 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 Ah ma io poi Non salto mai Regà Mi sono accorto Adesso Il salto È importante No non c'è Ah non è Riuscito Eh questo è stato Bello Questo meno Eh Mostrami cosa Sai fare Eh Me la devo giocare L'ultima Eh Abbiamo colpito In realtà Di nuovo Eh Adesso No Ok Due Tre Oh Ti Studia Il pattern D'attacco Maledizione Eh Delato Delato Qua No Mi ha rotto la guardia Eh non ho più stamina E Cavoli miei No Guarda lo shuriken Attaccato In testa Tossa comunque Pure questa No dai Ultimo shuriken Ma comunque la stamina Non si ricarica Quando Sono Quando salto Let's go Abbiamo sconfitto La forgiatrice Eh Prima Spadoli Poi va a vedi come sta Non credo stia bene Non credo stia molto bene Non termini il lavoro Aia Colpo di grazia Dobbiamo dargli Colpo di grazia Non sei cambiata Da quando ti ho accolta Ed è fondamentalmente Da qui Che secondo me Inizierà La vera e propria Storia di questo Rise of the Ronin Da quando ho perso La mia lama gemella Io vivo nel lutto Di essere sopravvissuta Va E trionfa Dove io ho fallito Mi sa tanto che abbiamo ancora compagnia Mi sa tanto che il lavoro qui non è fatto finito ragazzi L'ultimo consiglio L'ultimo consiglio Questo è l'ultimo consiglio Della forgiatrice Le lame gemelle hanno un legame potente Se senti la sua presenza Se senti la sua presenza Eccolo qui appunto Si apre proprio la sequenza Si apre proprio la sequenza Open world Come potete vedere Da qui il gioco inizia A mostrare la propria anima di Insomma Open world Mondo aperto Queste sono tutte le mappe Ovviamente a noi Per il momento sconosciute Accomunate tutte Da un livello di legame Che ancora devo ben capire Cos'è E ci sono un pochino di regione Ci sono un pochino di regione La missione ormai Cioè per il momento Cioè ormai Per il momento è Come potete vedere Guida Cioè nel senso E qui non ce ne sono altre Però essendo un open world Ci saranno sicuramente Missioni secondarie Opzionali Eccetera eccetera Non abbiamo punti abilità Per quanto riguarda i legami Ci sono vari tipi di legame Che fondamentalmente Ti vanno a consegnare Guanti Calzini Trattati Vari Magari non ci spoileriamo Quanti livelli di legame Esistono Ehm Questo è quanto ragazzuoli Noi ci rivediamo In un prossimo episodio In cui appunto Andremo ad esplorare Questa parte open world Andando ovviamente Avanti con la storia Let's go Ski let's go Si è così che si fa Ha ha